Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video. Io spero vivamente che voi abbiate visto il video che è uscito qualche giorno fa in cui parlo delle mie sensibilità alimentari. Faccio un piccolo riassunto, ho fatto delle analisi sia del DNA che del sangue per identificare quella che è la reazione del mio corpo a determinati alimenti e è andato tutto abbastanza bene se non per alcune criticità. Quali sono state le criticità? Sono state il latte, quindi latte e lattosio ovviamente, ma non solo, anche la caseina, quindi non solo non posso più mangiare ad esempio una mozzarella classica, anche la mozzarella senza lattosio mi chiara dei problemi, quindi tutti i latticini. Ah tra l'altro andate a vedere che ci sono due cose che non mi sarei mai aspettato e che sono state una sorpresa, insomma è tutto quello che dirò. Comunque io ho ottenuto un diario alimentare per più di un mese in cui segnavo tutti i giorni quello che mangiavo per vedere se qualcosa mi desse o meno problemi e in realtà è andato tutto bene eliminando per l'appunto i latticini. Ora, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo arachiri signore. Oggi faremo una reintroduzione aggressiva di latticini, burro, una marea di burro, per vedere cosa succede nel mio corpo. È forse una delle ultime volte che mangerò latticini in questo modo e non voglio fare una roba troppo, quindi non andremo di cattiveria con una mozzarella di battipaglia, capito? Una zizzona così che inizia a fare ammorsi e vedi che succede. Sarebbe un po' estremo e me ne pentirei amaramente. Però mi hanno dato un consiglio. Ho qui due pilloline di cui non mostrerò il brand perché l'ultima cosa che voglio fare è fare pubblicità a dei medicinali. Queste sono due pilloline masticabili che mi dovrebbero consentire di digerire il lattosio. Perfetto. Allora. No, che stronzi, sanno di latte. Che infami. Mi sembra eccessivo. Farle che non sanno di niente piuttosto. Comunque, l'esperimento che voglio fare oggi, che deciderà la direzione del canale anche per i video sul cibo, se riusciremo a farli ancora oppure no, è questo. Capire se la mia sensibilità alla caseina è talmente alta che anche con degli enzimi, come in questo caso delle pilloline che aiutano a digerire il lattosio, sto male oppure no. Ho qui con me dei pancake giapponesi. Questi sono dei fluffy pancake. Guardate quanto sono morbidosi. Ora, si sono un po' affrosciati che sono qua da mezz'ora, ho registrato un altro video prima. Però io solo toccando questo pancake, guarda quanto è unto. Questo è burro. Cioè, questa è una pastella in cui c'è talmente tanto burro che sono dei soufflé del male. E per non farci mancare nulla, ne ho preso una versione salata con sopra mortadella, pesto di pistacchio. Al cui interno comunque c'è una parte... Oddio, non so se c'è il latte nel pesto di pistacchio, non credo. Però alcuni per renderlo più cremoso lo fanno. Ma per non farci mancare nulla, oltre al burro dei pancake, c'è una burratina che io andrò a rompere sopra questi pancake con la mortadella. E si salve chi può. Ma non solo. Abbiamo del burro extra. Perché che fai? Non prendi del burro extra. Partiamo da quello dolce. Questo cos'è? Sciroppo d'acero. Ci sta che sia sciroppo d'acero. Forse miele. Prima un pezzettino di burro. Questo è il male, signori. Vediamo se queste pasticchine aiutano. Altrimenti questa sarà una delle ultime volte in cui mangio prodotti caseari in vita mia. Che è un gran peccato. Spero che funzionino queste bigloline. Cosa fai? Non ci metti sopra della panna? Da piangere ragazzi a pensare a cosa sarà dopo. Perciò che frega. Ma ma che buona. Poi ragazzi non so se voi siete di questa filosofia qui, ma io sì. Quando ti dicono che non puoi fare qualcosa, cioè, io è da quando sono stato male quest'estate che ogni giorno voglio mangiare le mozzarella, ma quelle di bufala buone, capito, appena fatte, che... Vabbè, comunque. Ci piazziamo sopra un po' di sciroppo umiere, non so che cazzo è. E questo è il male, signori. Questo per me è il male. Non so perché questo impasto per fare questo fluffy pancake è un disastro a livello di burro, latte. Probabilmente è un po' di farina, un quintale di latte e un quintale di panna burro. Che più ne ha più ne metta. Questo video chiaramente avrà la fine, tra qualche ora, quando vi registrerò il risultato di questo esperimento. Perché bisogna dare il tempo alla digestione di funzionare. Sì, lo so ragazzi, video molto strane su questo canale, però, che volete? Siete voi che mi seguite? Io non cazzo volete ne a me. Allora, prendiamo un po' di burro, un po' di panna. Come vedete, cioè, proprio super... Sembra quasi che tuerca. Allora, è molto buono. Si scioglie in bocca, forse è dovuto anche al fatto che c'è tutto questo cazzo di burro. Nel caso dovessi morire dopo questo video, sappiate che vi ho voluto bene. Ma che bellino che è dentro, è tutto... Non lo so, sembra quasi una cheesecake, capito? Come consistenza. Mmm, buono. C'è da dire che durante la cottura incorpora anche, perché ero lì mentre li preparavano, e l'impasto non è che ne metterò tantissimo, ma durante la cottura incorpora talmente tanta aria che poi si gonfia. Però lo vedi che appena lo tocchi, affonda. Cioè, è tanta aria anche. Di solito, lo sapete, non finisco il piatto. L'assaggio passo al prossimo per il video. Ma oggi è un assaggio speciale, che potrebbe essere l'ultimo. E quindi ce lo gustiamo, questo cazzo di pancake. Tra l'altro, ragazzi, io so già i commenti come saranno. Suri, ma le pasticche per il lattosio servono per il lattosio. Caseina ti fa male lo stesso, lo so. Ma come ho detto all'inizio video, io spero, so che non sarà così, ma spero che abbassando il problema del lattosio, annullandolo in teoria, perché due pasticche di questo tipo dovrebbero permettermi di digerire il lattosio in tranquillità, spero che la caseina non mi crea altrettanto problemi. C'è anche da dire una cosa, è un problema costoso questo da avere, perché le pasticchine per la lattasi, cioè per questo enzima, costano una fucilata. E considerando che devi mangiarne uno o due, prima del pasto, cioè neanche dici la prendi una volta al giorno e sei apposito il giorno, devi mangiarlo prima del pasto, se no non funziona. È un problema costoso. Cazzo, ho già finito. C'è neanche un altro, ma non voglio esagerare. Questo, ragazzi, è un video food porn, spero che Franchino non lo veda, mi spiace. Allora, facciamo così. Cambio del piatto, prendiamo uno di questi. Vediamo se ci riusciamo. Questa è la versione salata, che devo dire ha anche un bel aspetto, eh. Possiamo dirlo? Diciamolo, è un bel aspetto. È un pancake, come prima, solo che sopra non c'è zucchero, non c'è miele, non c'è panna, non c'è burro. Abbiamo della mortadella, del pistacchio e questo pomodorino essiccato, che va a dargli una bella botta di sapore, onestamente. Cos'altro? Sotto anche pesto di pistacchio, per far sì che la mortadella non vada da nessuna parte. Ma noi non ci accontentiamo e quindi facciamo così. Prendiamo questa burratina, la rompiamo dal lato e la mettiamo sopra, perché... Ah, qua. Ah, me ne sto già pentendo, ragazzi. Non è che dici, ah, so che me ne pentirò. No, no, sono già pentito. Ma va bene così. E, per non farci mancare nulla, non ci metti sopra quest'altro pesto al pistacchio. Ah, no, questo è pesto normale. È pesto di basilico, allora sì che c'è il formaggio. Non c'è il lattosio, perché viene usato il formaggio stagionato, ma c'è sicuramente la caseina. Poi guarda quanto cazzo è cremoso, qui c'è qualche addensante sicuro. Ho quasi paura per questo, onestamente, eh. Però va bene lo stesso. Siamo qui, no? E allora, bel tagliettino. Raga, questo come entra esce, ve lo dico, è un disastro. Però ci proviamo. Che buono. Sai quant'è che non mangiavo una burratina? Non è neanche così incredibile. È una buona burratina. Ma era a mesi che non mangiavo una roba così. Allora, è un po' ludro, eh, come piatto, ovviamente. E non lo senti tantissimo nel pancake, è molto meglio nella versione dolce. Però se ti piace il salato, c'è una bella spinta, tutto il topping. Sto esagerando? Forse bastava solo uno di quelli. Sì, però che video sarebbe? Chi è intuigliante al lattosio sa cosa vuol dire un boccone del genere. Buon appetito. Insomma, a questo punto qui, un momento di silenzio contemplativo sull'ipotetica ultima volta in cui mangerò delle cose del genere. Perché se non funziona, non funziona. Cato, io lì sono andato a mangiare un hamburger. Sai quando ti piange il cuore? Sono andato da mocio e ho detto, fai un panino senza formaggio. Un cheeseburger senza cheese. Che cazzo di cheeseburger è? È un hamburger, direte voi. C'hai ragione. Era buono uguale, eh? Perché era buono. Però poteva essere molto di più. Più buono quello dolce comunque. Perché qui c'è il contrasto tra dolce e salato. Però è talmente fluffy, che è una cosa positiva in realtà. Però è fluffy che non ti dà consistenza. Io con il salato vedisco le cose un po' più croccanti. Quindi magari una fettina di panna tostata, questa roba sopra, sarebbe stata molto più buona. Però comunque, dignitoso. E che fai? Non fai la scarpetta? E certo, fai la scarpetta di qua. Questo non lo mangio perché sono a dieta. Signori, a questo punto io non posso fare altro che rimandare al me del futuro. Ci rivediamo tra poco qui in studio per concludere il video. Signori, è il giorno seguente. Posso darvi la buona notizia. Tutto bene, non entrerò troppo nei dettagli. Però... Alla grande. E considerate che era da più di un mese che non mangiavo latticini. Le avevo completamente esclusi. Quindi... Figo. Signori, come avete potuto vedere dalla clip precedente, a quanto pare le pasticchine hanno fatto il loro lavoro. Questo vuol dire che limitando l'effetto del lattosio sul mio corpo tramite questo enzima che è assumibile da queste pasticche masticabili, la caseina, nonostante io sia sensibile, quindi ai prodotti caseari, non ha un effetto troppo deteriorante sul mio corpo. Questo vuol dire che comunque lo eliminerò dalla mia dieta il più possibile, ma per realizzare magari qualche video ogni tanto potrebbe essere una soluzione adeguata. Io spero ovviamente che sia così. Sicuramente nei commenti ci saranno dottori, medici, che più ne ha più ne metta, che diranno la loro. E mi fa sempre piacere. Io comunque mi affido al mio medico e poi partiamo da lì. Sono comunque molto contento di questa cosa qua. E ci vediamo prossimamente con altri video sul cibo. A questo punto vi direi di sì. Andrò sempre in giro con queste pasticchine da mangiare prima dei pasti. Sarà molto costoso perché costano una fucilata a queste cose. Ma noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale con dei nuovi video. Io vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.